Grazie Presidente, l'emendamento che diviene il 4 a questo punto chiede che l'articolo 15,3 venga aggiunto un comma 4 che dice che il soggetto proponente deve comunque possedere requisiti indicati nei criteri di cui è l'articolo 8,8 alle lettere A, B, C, D ed E. Chi sono questi soggetti proponenti? Sono i mercati agricoli non comunali privati che devono per garanzia di equilibrio e di qualità per questo emendamento possedere gli stessi requisiti dei mercati agricoli comunali. Questi requisiti sono la territorialità, quindi la prossimità della provenienza del prodotto in vendita degli imprenditori, quantomeno deve essere del Lazio, meglio ancora se vicino alla sede scelta, i titoli e le certificazioni aziendali, la rappresentatività intesa come un'ampia gamma di prodotti a disposizione, un sistema di controllo trasparente e verificabile da Roma Capitale, una proposta di organizzazione del mercato come un'offerta di qualità per le attività ulteriori di messa in vendita. Quindi noi anche in questo caso siamo contenti di poter allineare questi requisiti dei mercati agricoli privati e quelli comunali a tutela della qualità dell'offerta e della libera concorrenza tra mercato comunale e non. Grazie.